Assessore Marcheggiani, domani ci sarà la festa dell'albero, un'importante iniziativa che voi come Comune di Pescara avete voluto ovviamente far svolgere con determinate iniziative. Sì, insieme all'assessore Adelchi, sul pizzo che è l'assessore al verde, è strano anche l'assessore al patrimonio culturale organizza questa iniziativa, proprio perché per questa amministrazione, per l'amministrazione Alessandrini, gli alberi sono patrimonio culturale della città, coabitano con noi, vivono con noi e noi abbiamo bisogno della loro vita. Di cosa farete nel concreto in questa iniziativa? Insieme alle associazioni culturali che sono qui presenti in conferenza stampa, come il FAI, Italia Nostra, anche la Regione Abruzzo è con noi in questa bellissima iniziativa, noi avremo una parte didattica, saranno piantumati 5 lecci che ci sono stati donati dalla forestale e uno un po' più grande, proprio offerto dal Comune di Pescara e poi ci saranno una serie di convegni e di incontri proprio sullo sviluppo dell'arboricoltura per aumentare la sensibilità verso il patrimonio arboreo.